La Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo presenta una serie di appuntamenti che ci saranno in concomitanza con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Uno in particolare, Civico 48, che si terrà domenica al Media Museum. Presidente, al di là di questo è importante sottolineare che quest'anno fate rete come Pari Opportunità assieme a tante associazioni. Benissimo, lei ha colto proprio nel segno. Per fortuna sono tante le associazioni che in questa giornata si muovono e per fortuna non solo in questa giornata, perché la giornata contro la violenza della donna è il 25 di novembre, come dicevamo, però deve essere attenzionata tutti i giorni dell'anno. Quindi diciamo che le attività si svolgono a 365 gradi. Però quello che è importante oggi sottolineare è che finalmente siamo riusciti a mettere in rete le istituzioni, la società civile rappresentata dai club service della città e i centri servizio. Quindi il centro Ananche, anch'esso, parteciperà a questa iniziativa nostra e noi a nostra volta parteciperemo a un'iniziativa che verrà fatta al Museo, al Matta, la stessa sera. Quindi al Media Museum, che ci è stato concesso gratuitamente dalla Fondazione Tiboni, che ringraziamo, si svolgerà questo bellissimo incontro, che non voglio chiamare rappresentazione teatrale, ma messaggio culturale, perché è proprio su questo che puntiamo, in quanto affronterà le problematiche femminili a tutto tondo e quindi far capire che la violenza sulle donne non deriva da un atto isolato, ma proprio da un approccio diverso, culturale, che va affrontato nei confronti proprio delle donne. E quindi questa rappresentazione sarà veramente a tutto tondo e sarà una comunicazione per tante associazioni, tanti club che a loro volta faranno da cassa di risonanza per mandare questo messaggio importante.